La polizia di stato ha sequestrato tra sabato e domenica scorsi un macello clandestino in via Maria Messina a Palermo. Nell'area erano custoditi 5 pecore, 3 suini, 40 galline, un cavallo ed una mucca. Nel sopralluogo i poliziotti hanno trovato una carcassa di capra appesa ad un gancio che doveva essere utilizzata per la festa islamica del sacrificio. Nel macello è stato trovato un palermitano di 43 anni e treganesi. Le fasi della fumicatura e della sgozzatura dell'animale sono state riprese dagli africani per dimostrare agli amici che la carne fosse stata macellata secondo i canoni previsti dalla religione islamica. Gli animali sono stati sequestrati ed il titolare dell'allevamento è stato denunciato e accusato di inosservanza della corretta identificazione degli animali, carenze genico-sanitarie ed irregolarità dei criteri di protezione negli allevamenti. È intervenuta anche la polizia scientifica e veterinari dell'ASP. Grazie a tutti.